ciao in questo video vedremo come installare la fotocamera di monitoraggio xcam oltre a quello che è contenuto nella confezione avrai bisogno di un cacciavite a croce un tronchesino e se non sono presenti altri supporti un palo in metallo di almeno due metri con diametro compreso fra i 20 e di 55 mm una trivella con un diametro di 10 15 centimetri ed almeno 50 centimetri di lunghezza ed un martello in gomma il dispositivo viene fornito già preassemblato e comprende due parti la camera stessa e il modulo di comunicazione per prima cosa faremo la registrazione del dispositivo sulla piattaforma xfarm leggi il codice del dispositivo ed apri l'applicazione xfarm una volta entrato nell'account della tua azienda agricola vai nella sezione sensori clicca sul bottone più usa la mappa per selezionare il punto in cui installerai la tua camera inserisci un nome che lo identifichi scrivi il codice letto sotto la scatola bianca e seleziona il tipo di sensore acquistato una volta fatto clicca su crea sensore per aggiungerlo al tuo account a questo punto prova ad accendere il dispositivo premendo il pulsante esterno della scatola bianca controllando che lei dal centro del pulsante lampeggi velocemente se questo accade conferma che la batteria è carica e il dispositivo è pronto ad essere installato in campo ora dirigiti in campo e trova il punto migliore per installare il dispositivo avendo cura che non ci siano ostacoli nelle vicinanze che potrebbero interferire fissa la scatoletta bianca sul palo tramite le due fascette fornite nel kit facendo in modo che il pannello solare sia rivolto verso sud e non sia oscurato dalla vegetazione fitta ricordati di orientare la fotocamera in modo da ottenere l'inquadratura desiderata la fotocamera scatterà una foto ad ogni accensione e una volta al giorno dall'accensione in poi grazie per aver visto questo tutorial iscriviti al canale youtube di xfarm per continuare a rimanere aggiornato con i nuovi video e visita www.xfarm.g per maggiori informazioni buon lavoro da xfarm